Qual è il pianeta più affascinante? Saturno e Marte. Perché Saturno e gli anelli. Poi Marte lo stanno già studiando e ci sono delle cose fantastiche. Tipo il vulcano più alto del nostro sistema solare. È su Marte? Che sul libro di Marte che ho a casa c'era scritto che hanno trovato i batteri. Quindi c'è la vita. Mi hai detto che vuoi fare una scelta precisa. Tu da grande vuoi fare l'astronauta. Perché mi piace lo spazio, vuoi saperne di più. Leonardo che ha così tanti libri sullo spazio è un bambino che non ha nessun libro. Che differenza c'è? Che non può diventare un astronauta perché non sa niente. Oppure può diventare ma basta che gli spiegano le cose. Grazie a tutti. Grazie a tutti.